ciao a tutti maneggiando un uovo di gallina preso dal frigo ti sei mai chiesto ma mi fa bene oppure no quello delle uova è un argomento molto dibattuto per anni sono state demonizzate per il loro contenuto in colesterolo le uova però sono ricche di micro e macro nutrienti importanti per il nostro corpo in questo video rompiamo il guscio di uno degli alimenti più dibattuti della nutrizione ti parlerò più precisamente del rapporto fra uova e colesterolo di tutti i nutrienti presenti nelle uova di gallina e mi raccomando rimani incollato al video perché in fondo ti spiegherò qual è il numero di uova che puoi mangiare nell'arco della settimana per ottimizzare la tua salute e quindi bando alle ciance sigla quando penso alle uova penso ai giorni di festa quando mia nonna faceva la pasta fatta in casa o dei buonissimi dolci le uova insieme allo zucchero e a un goccio di marsala amabile o di vinsanto erano gli ingredienti indispensabili per un ricco zabaione che miei nonni mi davano da piccolo per guarire dall'influenza negli ultimi anni però le uova sono state demonizzate per il loro contenuto in colesterolo basta sapere che già il colesterolo presente in due uova supera la soglia giornaliera massima da introdurre con l'alimentazione 300 mg secondo le linee guida le uova però sono anche una fonte di nutrienti preziosissimi per il nostro organismo a partire dalle proteine che compongono l'albume ovvero la parte bianca dell'uovo che sarebbe meglio non mangiare crudo contiene infatti una sostanza la vidina che rallenta e riduce fortemente l'assorbimento delle proteine utili il trucco semplicissimo è quello di cuocere le uova per inattivare la vidina e consentire l'assorbimento delle proteine da parte del nostro corpo ci sono poi i grassi del tuorlo il rosso dell'uovo che non sono solo insaturi ma hanno invece una buona percentuale di acido oleico anche se di origine animale l'uovo devi pensarlo come fonte lipidica molto più simile all'olio d'oliva e quindi devi a tutti gli effetti considerare un alimento sano inoltre l'uovo è ricco di vitamine ad e k e numerose del gruppo b oltre alla folina e di sali minerali e antiossidanti come la luteina e la zeaxantina utili fra l'altro per la salute dei nostri occhi ma torniamo al colesterolo la valutazione dell'influenza del colesterolo introdotto con la dieta sul profilo lipidico del sangue cioè sull'insieme dei grassi ematici ha subito negli anni molte variazioni in seguito a diversi studi condotti il colesterolo presente nel sangue è per la maggior parte circa l'80 per cento autoprodotto si parla di colesterolo endogeno nel caso di una maggiore assunzione con la dieta se cioè mangiamo più cibi ricchi di colesterolo i sistemi di autoregolazione del nostro corpo dovrebbero regolarne la produzione mantenendo così i livelli costanti è probabile che variazioni genetiche nella regolazione di questi meccanismi possano influenzare la risposta a una assunzione maggiore di colesterolo con la dieta facendo la differenza fra un sistema di autoregolazione che funziona e uno invece che è difettoso disfunzionale ad oggi però tali meccanismi non sono ancora del tutto chiari ciò che è stato appurato è che non è tanto il colesterolo in sé assunto con l'alimentazione a sbilanciare il profilo lipidico nel sangue ma bensì l'introduzione con la dieta di rilevanti quantità di acidi grassi saturi e acidi grassi trans questi ultimi presenti vada bene in prodotti industriali nei latticini ma anche nella carne dei ruminanti ma anche e soprattutto di zuccheri accompagnati a scarse quantità di acidi grassi essenziali e di fibre altro aspetto importantissimo è che anche l'attività fisica incide sul profilo lipidico ematico oltre che su quello della glicemia più movimento fai più terrai sotto controllo colesterolo e trigliceridi nel sangue ad oggi dunque le uova sono state a tutti gli effetti riabilitate in un'alimentazione salutare anche fino a una al giorno tenendo comunque presente che non è il singolo alimento a compromettere l'effetto dell'alimentazione sul nostro organismo ma la dieta in tutto il suo complesso motivo per cui oltre che sulle uova è importante porre attenzione sul resto dell'alimentazione che deve sempre prevedere elevate quantità di verdura e in generale una buona quantità di fibre estrema varietà nella scelta fra le fonti proteiche includendo di frequente i prodotti vegetali come i cereali integrali abbinati ai legumi e preferendo il pesce alle fonti animali per chi preferisce un approccio molto prudente alle uova possiamo seguire le più recenti linee guida della società italiana di nutrizione che raccomandano da una a quattro uova alla settimana avendo ritenuto che sia un buon compromesso che includa quindi sia le persone in salute sia le persone affette da particolari patologie che richiedono una maggiore attenzione alla dieta bene siamo arrivati alla fine del video spero che ti sia piaciuto se hai delle domande non esitare a farcele qua sotto nei commenti ovviamente se ti piace questo video lascia un bel like e perché no se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale perché rimarrai aggiornato su questi contenuti ciao e alla prossima